A distanza di oltre un mese dalla tragica scomparsa di Giulia, il caso continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, soprattutto perché Filippo Turetta celebra il suo compleanno dietro le sbarre del carcere di Verona, dove sta scontando la sua pena. In queste ultime ore, un video inaspettato di Giulia ha fatto la sua comparsa, stupendo e atterrando chiunque abbia avuto l'occasione di vederlo. Prima di addentrarci nei dettagli, ti incoraggiamo calorosamente a mettere mi piace al video e iscriverti al nostro canale per restare costantemente aggiornato su questa vicenda che continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Per noi, questo è un semplice atto, ma di grande importanza. Dopo la tragedia della morte di Giulia Cecchettin, emerge un lato oscuro della società, individui che, con insensibilità, continuano a pubblicare sui social post di cattivo gusto. In particolare, su Treds è apparso un video che mostra una padella che sembra muoversi da sola, giocando in maniera diabolica con la figura di Giulia. Il post è diventato virale in pochissimo tempo, suscitando indignazione in numerose persone. Mentre molti condannano con fermezza tale iniziativa, c'è chi, incredibilmente, elogia l'azione, amplificando la reazione con ulteriori post. Alcuni di questi post sottolineano che Filippo Turetta sembra apprezzare il video, continuando a far fronte alle difficoltà della sua detenzione. Questi sono solo alcuni esempi di post aggiuntivi che circolano insieme al controverso video. La tua opinione su questa vicenda è preziosa per noi, quindi ti chiediamo gentilmente di esprimerti mettendo un mi piace e condividendo il tuo pensiero nei commenti. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare le notifiche per rimanere costantemente informato su ogni sviluppo di questa intricata storia.